maxi evasione fiscale a fano sotto sequestro beni per 450 mila euro smart working e assunzioni nell'assemblea tra sindacati e dipendenti del comune di pesaro inaugura roff 15k la mostra che racconta i 40 anni del festival sport sponsorship rinnovata tra vl e eden viaggi una buona serata a tutti i telespettatori di rosini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rosini news in apertura parliamo di cronaca con un'operazione della guardia di finanza di fano che ha posto sotto sequestro beni e disponibilità economiche per un importo di circa 450 mila euro appartenente a rappresentante legale di una società di costruzioni con sede nella zona industriale di fano il quale si è reso responsabile di una maxi evasione fiscale la scoperta dell'importante illecito ha avuto inizio grazie ad un accertamento di natura fiscale per omesso versamento dell'iva nel 2016 condotto dai funzionari dell'agenzia delle entrate in seguito al provvedimento emesso dal giudice di pesaro i finanzieri di fano hanno quindi provveduto a ricostruire la capacità patrimoniale finanziaria del soggetto indagato sottoponendo a sequestro denaro presente su alcuni conti bancari e tre unità immobiliari dell'uomo e ora cambiamo argomento perché si è svolta questa mattina l'assemblea sindacale indetta dalle sigle fp cgl cisl fp will fpl con i dipendenti del comune di pesaro diversi punti affrontati durante l'incontro a partire dallo smart working e dalle recenti dichiarazioni del sindaco di pesaro matteo ricci aspramente criticate dai sindacati che hanno invece evidenziato le carenze dell'ente riportate dai lavoratori vediamo il servizio smart working estensione dell'obbligo della certificazione verde in partenza dal 15 ottobre fa bisogno e criticità del personale sono i temi emersi durante l'assemblea delle sigle sindacali fp cgl cisl fp will fpl a cui questa mattina ha preso parte il personale del comune di pesaro il tavolo arriva a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni del sindaco di pesaro matteo ricci il quale proprio in riferimento al lavoro agile ha parlato di una minor produttività da parte della pubblica amministrazione e della necessità di riportare l'attività lavorativa in presenza affermazioni criticate dai sindacati i quali hanno invece evidenziato le carenze le problematiche dell'ente riportate anche nell'incontro odierno dai dipendenti tra le quali spicca la necessità di aumentare il numero delle assunzioni ovviamente se partiti dalla dichiarazione che ha fatto il sindaco rispetto alla produttività del del comune e i dati che sono emersi sono dati drammatici e richiamano a una situazione appunto che denunciamo da alcuni anni e cioè che il calo occupazionale nell'ambito del comune di pesaro rischia di mettere a repentaglio la possibilità di fornire dei servizi di cui i cittadini soprattutto dopo durante dopo la pandemia hanno più bisogno se non si è mai toccato un aspetto economico questo ci tengo a dirlo tutti i dipendenti che sono intervenuti tanti abbiamo poi dovuto attrezzarci per fare anche la forma online hanno rivendicato la necessità di più assunzioni di una programmazione nelle assunzioni perché spesso chi va in pensione non viene sostituito e quando viene sostituito viene sostituito dopo mesi e questo non consente di avere la formazione necessaria per poter continuare a garantire la qualità di quel servizio per dare continuità siamo rimasti molto sorpresi della dell'uscita pubblica che praticamente criminalizza con dati falsi con disinformazione e con luoghi comuni un'intera categoria senza entrare nel merito dei dati nella riunione di oggi sono venuti fuori altri dati che evidentemente il sindaco non conosce ci sono sono dati di gente che ha dato risposte importanti durante la pandemia nonostante sono in carenza d'organico e questo andrebbe un po' verificato invece si preferisce appunto attaccare generalizzando la categoria dei pubblici dipendenti che offrono servizi pubblici per tutti i cittadini i servizi che vengono o esternalizzati o privatizzati abbiamo visto anche recentemente producono due risultati aumentano i costi e peggiorano i servizi quindi invece di denigrare la propria amministrazione forse andrebbe bene confrontarsi per capire come si può migliorare il migliorabile e ringraziare però anche pubblicamente la gente che il suo l'ha fatto in condizioni difficili in carenza d'organico e rispondendo sempre alle esigenze dei cittadini le dichiarazioni rilasciate dal sindaco sullo smart work hanno aperto un vespaio ovviamente lo smart lo ricordiamo uno strumento che è stato necessario durante il periodo della pandemia che era stato individuato dal governo con un decreto ma nel comune di pesaro diversamente da quello che il sindaco dice innanzitutto va detto che alcune alcuni servizi alcune persone hanno lavorato sempre in presenza e gli altri già a partire dal più o meno da giugno si sono ridotti al 15% l'argomento focale è non sono mai stati chiusi i servizi i servizi sono stati sempre garantiti si è tornato e questo è vero ma lo smart working prevedeva questo e la cosa che ci dispiace visto che lo smart diventerà poi un istituto contrattuale stiamo aspettando che a livello nazionale venga inserito proprio nella contrattazione che poi riserveremo anche a livello locale lo smart debba essere un'occasione un'opportunità per non tornare nel medioevo ma far fare alla pubblica amministrazione quel salto necessario tema del green pass sì ora poi aspettiamo l'incontro del 5 di ottobre per capire meglio come intendono poi applicarlo per quella parte di personale che non è stato interessato finora dalla modifica normativa perché noi abbiamo anche il settore delle scuole degli educativi che già ha per norma l'obbligo del green pass su quello aspettiamo anche delle guida nazionali perché ci sarà la necessità di controllare noi chiediamo che comunque i tamponi che sono uno degli strumenti uniti al vaccino per poter avere il green pass siano garantiti a carico dell'ente proprio perché un costo diciamo del indispensabile per poter esercitare il diritto al lavoro non deve ricadere sul lavoratore ma deve ricadere sul datore di lavoro. E parliamo ora di sanità perché dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale Filippo Saltamartini in merito al sito di costruzione del nuovo ospedale di Pesaro il sindaco Matteo Ricci ha ribadito che il comune non realizzerà nessuna variante urbanistica per l'edificazione della struttura nell'area di case bruciate. L'indicazione dell'amministrazione comunale ha sottolineato Ricci è quella di non voler consumare il nuovo territorio ma di trasformare il costruito e dunque di optare per la zona di muraglia scelta dai sindaci della provincia già urbanisticamente compromessa e che può essere trasformata e modernata a discapito dell'area di case bruciate ancora verde e agricola. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato che scegliendo di realizzare il nuovo ospedale nell'area di case bruciate sarebbero due le strutture sanitarie che rimarrebbero poi inutilizzate e da trasformare quella del San Salvatore e l'area attiva a muraglia. E parliamo ancora di sanità con gli aggiornamenti quotidiani relativi all'andamento dei contagi da Covid-19 sul territorio regionale. Il bollettino del servizio sanità segnala che nelle ultime 24 ore sui 3.026 tamponi analizzati di cui 1.702 nel percorso nuove diagnosi sono 71 i nuovi casi registrati nelle Marche. Di questi 21 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro e Urbino. Nelle ultime 24 ore è stato inoltre notificato un nuovo decesso legato al Covid e la vittima era residente nella provincia di Ascoli Piceno. Cambiamo decisamente argomento perché è stata presentata a Fanno una raccolta fondi unica in Italia per liberare il mare dalla plastica. Giobe Covatta e Moreno Cedroni sono i testimoni all'eccezione della campagna di sensibilizzazione del progetto denominato Mare Circolare e finalizzato alla pulizia delle acque di Fano, Senigallia, Riviera del Conero e Civitanova Marche. Vediamo il servizio a cura di Simone Celli. Di certo non c'è più tempo da perdere e siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. È con questo spirito che è stata lanciata una raccolta fondi civica a sostegno di un progetto ideato per liberare i nostri mari dalla plastica. Si chiama Mare Circolare ed è promosso da Garbage Group e finanziato dalla regione Marche. Si tratta di un esempio di blue crowdfunding, il cui obiettivo è quello di ottenere fondi per ripulire le nostre acque e preservare così anche la fauna ittica. Si comincia da Fano, Senigallia, Riviera del Conero e Civitanova Marche. L'iniziativa coordinata da Svem vanta inoltre due testimoni al decezione. L'attore Giobe Covatta e lo chef stellato Moreno Cedroni, protagonisti di uno spot che invita i marchigiani a dare il loro contributo. Il progetto blue crowdfunding è un progetto trasnazionale che coinvolge 13 partner di 9 paesi europei in cui appunto si unisce l'integrazione dei fondi europei con questa innovazione del crowdfunding civico che di fatto mira a integrare i fondi europei migliorando i flussi economici che consentono appunto di raggiungere risultati maggiori. È un progetto estremamente interessante vista l'importanza che riscuota la sensibilità della salubrità del mare con un occhio di riguardo appunto anche per tutto l'indotto che ha a che fare con la ristorazione, col turismo per rendere sempre più appetibile insomma questa porzione di Adriatico e le nostre città. Quindi un progetto che fondamentalmente ha quattro aree cardine. La prima è un'area fragile individuata nel Conero e le altre sono le città che hanno appunto valenza turistica importante con centri urbani importanti come Fano, come Senigallia, come Civitanova. E quindi siamo molto felici insomma di portarlo io personalmente poi a Fano che è la mia città, partire proprio da qui per centrare l'obiettivo dei 40.000 euro che è l'obiettivo minimo per questa porzione di mare. Qualora appunto come noi ci aspettiamo il crowdfunding avesse ulteriore successo potremmo ampliare questa zona di mare e quindi rendere un servizio ancora migliore, ancora più importante per la nostra regione. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare questo progetto di New Crowdfunding che in qualche modo coinvolgerà la nostra produzione perché Garbage, l'università e tutti i soggetti che hanno lavorato a questo progetto compresa SWIM sono soggetti marchigiani che hanno messo insieme una barca con tutte le certificazioni tecniche per poter raccogliere la plastica. Questo tema credo che faccia la differenza tra il dire e il fare. Noi dobbiamo mettere in piedi nell'ambito della Blue Economy, della sostenibilità ambientale ma anche economica un progetto che ci vede protagonisti e in questo caso saranno le marche a dare una soluzione di raccolta della plastica in mare a tutto il resto del mondo quindi è qualcosa davvero molto importante. Intanto invito tutti a partecipare alla piattaforma crowdfunding anche con cifre basse però per dare un sostegno a questo progetto e poi dobbiamo essere bravi a creare una filiera produttiva di questo tipo di imbarcazione che verrà venduto in tanti paesi e sarà un esempio di come si può migliorare l'ambiente in mare. Ringrazio Keniuco Promo che ci ha ospitato questa mattina per lanciare questo crowdfunding e credo che dalle marche parta un segnale molto importante per tutti. E si è alzato questo pomeriggio al Museo Nazionale Rossini il sipario sulla mostra ROF 15K la libertà dello sguardo nell'immaginario visivo rossiniano. Un'esposizione dei modellini di scena per raccontare i 15.000 giorni di vita del Rossini Opera Festival. ROF 15K vuole festeggiare i 15.000 giorni di Rossini Opera Festival. Il 28 agosto 1980 per la prima volta si è alzato il sipario sui palcoscenici appunto del ROF e il 22 settembre 2021 sono trascorsi esattamente 15.000 giorni. Il ROF ha inciso in maniera importante sul quotidiano del nostro territorio e quindi abbiamo pensato che fosse giusto utilizzare il giorno come unità di misura per celebrare un'importante ricorrenza. Quindi questa mostra vuole festeggiare la storia del festival attraverso un punto di vista particolare, quello della messa in scena. Quindi in mostra potremo vedere 24 modellini di scena, alcuni degli allestimenti più importanti di questa storia del festival restaurati dalle laboratorie del ROF. Si tratta di una manifestazione che ci riempie di orgoglio e che a tutti quelli che amano e hanno amato il ROF farà rivivere tanti tanti ricordi bellissimi. Ogni produzione ha i suoi risvolti e solleciterà in ciascuno di noi che li ha visti tanti ricordi di grande qualità durante tutti questi anni. 15.000 giorni di ROF, che equivalgono ovviamente a un po' più di 40 anni, 42 anni di festival, raccontati in un viaggio incredibile e anche veramente emozionante per le maquette, che sono i modellini che venivano e vengono tuttora realizzati dai registi quando poi propongono al festival la propria idea di opera che gli viene commissionata. Già qualche anno fa, visitando i depositi del festival, ci chiedevamo se non fosse ora di ripristinare questi modellini, farli vedere a un pubblico più largo rispetto agli addetti lavori a cui normalmente sono destinati, un viaggio attorno al ricordo di tutti i registi che si sono susseguiti e anche i diversi modi, i tanti modi di poter vedere uno stesso titolo, una stessa opera come il Barbieri di Siviglia o come la Semiramide o come Moise Faraon. Quindi nel contesto del Museo Nazionale Rossini, che già aveva una macchetta delle più importanti, come del Moise Faraon di Vic del 97, sempre esposta di una bellezza veramente rara, crediamo che sia un bellissimo viaggio per il pubblico, per i turisti, ma molto anche per le scuole e soprattutto anche per gli appassionati d'opera e magari ognuno potrà ricordare attraverso una macchetta o un modellino dove era seduto in sala e cosa ha rappresentato per lui magari quel festival, quell'edizione, quell'estate pesarese. Il gruppo Giometti Cinema, che è tornato a gestire direttamente i suoi cinema nelle Marche, continua l'operazione di riapertura delle multisale. Domani, giovedì 30 settembre, riparterà anche il Multiplex di Fano, che può contare su sei sale per una capienza totale di oltre 1200 spettatori. E con un'emozionante lettura spettacolo al Monastero di Fonte Avellana, in onore di Dante Alighieri e del suo rapporto con le Marche, si è conclusa domenica 26 settembre la prima edizione del Festival del Libro nelle Terre di Mezzo, organizzato e promosso dall'Unione Montana del Catria e del Nerone. L'evento, che con il suo ricco programma ha riscosso grande successo, ha rappresentato l'anno zero di un percorso che vuole diventare appuntamento fisso per queste terre anche negli anni a venire. E' grande successo anche per un giro d'olio DOP Cartoceto, in viaggio tra gli hotel della costa, iniziativa promossa dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Cartoceto, in collaborazione con Federalberghi Pesaro e Urbino e l'Associazione Albergatori Fano con il sostegno della Regione Marche. Il progetto, partito d'agosto per promuovere e valorizzare l'olio DOP Cartoceto, ha permesso alle strutture alberghie aderenti di utilizzare l'olio per la preparazione dei propri piatti e di allestire dei veri e propri corner di degustazione per gli ospiti delle strutture. La voglia di raccontare fa parte dell'indole umana. Da questa premessa nasce il progetto di Paolo Pagnini, che attraverso un corso in partenza questo venerdì punta a migliorare le tecniche di racconto e narrazione per chiunque si trovi abitualmente ma anche occasionalmente a parlare in pubblico. Vediamo l'intervista. C'era una volta tecniche favolose di narrazione orale. È un titolo che mi è venuto in mente perché c'era una volta, naturalmente è l'inizio di ogni racconto, di ogni favola e a quel punto, visto che si agganciava all'idea della favola, anche le tecniche mi piaceva sottolineare che fossero favolose. È un po' un gioco di parole ma è anche molto importante sottolineare che nel titolo sta la promessa. Il progetto punta a valorizzare le caratteristiche di ognuno di noi nel raccontare, nel raccontare in pubblico ma anche nel raccontare in privato quante volte ci siamo trovati appunto a iniziare un discorso e accorgereci che gli altri si distraggono. Ecco, c'è qualcosa che non va? Sì, c'è qualcosa che non va e noi proveremo insieme a tutti quelli che ci seguiranno a capire che cosa non va e a come fare per valorizzare le proprie caratteristiche personali perché poi non ci sarà una situazione nella quale verranno spiegati chissà quali segreti e chissà quali tecniche, ma in realtà ci sarà semplicemente un modo interattivo con molta parte dedicata alla pratica appunto per arrivare a migliorare. Questo è l'obiettivo di questo corso che inizia con una prima lezione come tutti i corsi che noi proponiamo il primo ottobre. Il primo ottobre è una data che ho scelto perché nella mia storia personale evoca il primo giorno di scuola per cui già mi immagino tutti con il grembiulino e col fiocco non sarà così naturalmente, però ci vedremo il primo ottobre alle 21 nella sala delle arti che è la nostra sala corsi e non solo ma è molto importante anche che ci si prenoti attraverso la piattaforma di Eventbrite perché abbiamo deciso di fare tutto in maniera molto scrupolosa e di conseguenza abbiamo bisogno di un minimo, un pizzico anche di burocrazia per strutturare al meglio questa partecipazione a questa prima lezione gratuita. La prima lezione è riservata a non più di 30 persone per un motivo ovviamente legato al Covid e tutto il resto il corso invece per motivi didattici lo fissiamo per un massimo di 12 persone questo proprio perché vogliamo dare molto spazio all'interattività e molto spazio alle esercitazioni pratiche se ci saranno queste 12 persone massimo, minimo 10 a quel punto ogni giovedì ci sarà un appuntamento sempre alla sala delle arti un'ora e mezza dalle 21 alle 22.30 nelle quali ci sarà una parte dedicata a qualche piccola somministrazione di idee, di consigli, di suggerimenti e poi tanta pratica. E apriamo ora la pagina sportiva del nostro telegiornale parlando di calcio con il risultato della partita che ha visto protagonista la Vis Pesaro contro la Viterbese Il match è terminato in pareggio 1 a 1 con i biancorossi che dopo il vantaggio conquistato fino alla fine dell'incontro sono stati raggiunti dalla rete avversaria al 94esimo minuto Cambiamo pagina e parliamo ora di basket perché Eden Viaggi, storico brand peserese nel settore del turismo ha rinnovato per la stagione 2021-2022 la sponsorship con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro La conferma di questo sodalizio è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa Vediamo il servizio di Marco Cadeddu Il binomio tra Eden Viaggi e VL Carpegna Prosciutto Pesaro si rinnova dopo un decennio continua il sodalizio tra i due marchi e la Eden Viaggi nonostante il passaggio al gruppo Alpitour continua la sponsorship e la partnership con la società biancorossa La presenza di Eden Viaggi che ormai ci vede collaborare, ci vede uniti da più di dieci anni è una presenza importante del consorzio naturalmente unitamente a tutti gli altri consorziati che danno la possibilità sostenendoci di poter proseguire l'attività e cercare di offrire ai nostri tifosi il meglio possibile Io personalmente ma tutti noi della VL siamo molto felici e orgogliosi di proseguire questo legame con Eden Viaggi naturalmente speriamo tutti in meglio come ho detto l'entusiasmo e la voglia di migliorare che accompagna come elemento principale la natura della VL di Eden Viaggi speriamo che anche quest'anno possa dare soddisfazione Un po' di anni fa viaggevamo con Eden Viaggi in giro per l'Europa naturalmente quello può essere veramente un obiettivo certamente ci vediamo affiancati con questo legame con Alpitour che è un marchio a livello mondiale, un leader mondiale quindi si fa grande piacere speriamo di viaggiare con loro nel prossimo futuro e andare a fare trasferte come una volta Siamo vicini, siamo tifosi ovviamente e abbiamo voluto dare un segnale di continuità ma soprattutto di sostegno con le nostre possibilità sia alla squadra sia alla città di Pesaro che rimane nel nostro gruppo un punto centrale dello sviluppo Sono stati mesi veramente molto molto duri molti hanno pensato che si potesse viaggiare per turismo in realtà questo è accaduto solo sull'Italia ma per l'estero invece è stato pressoché impossibile andare e viaggiare fortunatamente abbiamo qualche segnale di ripartenza ieri un'ordinanza ha aperto qualche corridoio turistico ci rimettiamo in moto e questo lo vogliamo leggere come un auspicio per l'anno che verrà sia per noi Tour Operating sia anche per la squadra che speriamo faccia un ottimo campionato La società Eden Viaggi è una storia, leggenda, un sacco di contenuti quindi non solo non smentiamo se ce n'è ancora bisogno ma mi sembra che sia una storia vecchia queste preoccupazioni ma anzi concentriamo su Pesaro tutta una serie di attività che facevamo nel gruppo e le concentreremo in una nuova sede di cui parleremo in gennaio dell'anno prossimo Proprio qualche giorno fa abbiamo presentato l'estrutturazione dei nostri brand quindi la nostra offerta al mercato l'idea è quella di cercare di sposare il più possibile l'offerta alle esigenze dei consumatori Eden Viaggi prende in carico un ruolo importante che è quello se vogliamo dei concetti più moderni di viaggio, dei concetti più di costruzione meno pacchetto e più soluzione personalizzata E parliamo ancora di sport perché è stata presentata ieri alla tenuta Santi Giacomo e Filippo la nuova squadra della Megabox Vallefoglia che dal 10 ottobre sarà impegnata per la prima volta nella sua storia nel campionato di A1 Vi racconteremo meglio questo momento all'interno del Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine in partenza su Rossini TV da venerdì 1 ottobre alle ore 20 Vediamo però nel frattempo qualche intervista Riparte dalla tenuta Santi Giacomo e Filippo la nuova stagione della Megabox Vallefoglia La prima in A1. La squadra del presidente Ivano Angeli debutterà in campionato il 10 di ottobre a Conegliano Un'emozione sicuramente grande e poi quest'anno ancora di più perché comunque essere saliti di categoria a massimo livello della pallavolo femminile è qualcosa che non è per tutti Modestamente noi ci siamo riusciti come società, come gruppo di imprenditori qui locali quindi siamo orgogliosi di questo Si giocare a Urbino purtroppo per situazioni che a Vallefoglia non erano permesse e comunque noi dovevamo giocare da qualche parte il titolo ce l'avevamo Abbiamo scelto Urbino perché forse nella situazione di scelta fra Pietro e Urbino Urbino era quella che ci dava più caratteristiche migliori per fare il campionato Il nostro obiettivo primario è quello della salvezza speriamo di raggiungere il più presto possibile magari se poi questo avviene possiamo toglierci anche qualche altra soddisfazione ma comunque l'obiettivo primario è la salvezza perché arrivare in A1 e ambire a posizioni maggiori non è auspicabile L'obiettivo è quello da salvarsi assolutamente perché è una società che è molto cresciuta in pochissimo tempo quindi basti pensare che il terzo anno di fila in cui siamo debuttanti e questo va dell'incredibile perché eravamo debuttanti in B1, debuttanti in A2 e siamo debuttanti in A1 adesso è il momento di fare le cose con calma perché comunque le prime 6-7 in classifica hanno degli obiettivi che noi in questo momento non possiamo porci siamo una matricola, quest'anno salvarsi sarà il nostro scudetto E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la programmazione di Rossini TV che continua questa sera alle 21.20 con un nuovo appuntamento della TV dei Viaggi in cui si parlerà di Cuba Come annunciato poco fa, dal 1 ottobre vi ricordiamo che torna il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine il telegiornale del territorio in onda quindi da venerdì 1 ottobre alle ore 20 su Rossini TV e poi vi ricordiamo che potete scaricare da tutti gli store digitali l'applicazione di Rossini TV attraverso le quali potrete vedere in diretta 24 ore su 24 la programmazione della nostra emittente oppure rivedere le notizie e i programmi già andati in onda Vi ricordo inoltre che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV Grazie per averci seguito in questo video